La Resurrezione è un'opera straordinaria di Piero della Francesca che, possiamo dirlo, parla anche Aquilano. La Facoltà di Ingegneria, in particolare il Laboratorio Laser, professoressa Paoletti, come ha contribuito? Allora, a fine del 2009 l'Opificio delle Pierreture di Firenze ci ha coinvolto per fare delle indagini diagnostiche innovative su questo affresco, che poi non è un affresco ma è una tecnica mista, affresco, tempero, eccetera, perché il grosso problema era, oltre per procedere al restauro, visto il degrado che c'era stato e che in 500 anni non era stato mai restaurato, era di vedere se effettivamente era stato dipinto lì sul posto dove adesso è situato oppure altrove. E quindi noi, sei volte, la nostra equipe formata dal tecnico Pasqualoni, dal ricercatore Sfarri Ambrussini, siamo andati lì e dopo delle attende indagini, ripetute più volte perché effettivamente non era semplice riuscire a capirlo, abbiamo evidenziato una struttura disomogenea al di sotto dell'affresco, che faceva prevedere che effettivamente era stata una specie di supporto per poggiarci sopra qualcosa, che era appunto questo affresco evidentemente trasportato da un altro posto. Queste immagini sono state elaborate qui dal laboratorio, non è una semplice termografia, ma è una termografia quantitativa e effettivamente loro poi fidandosi delle indicazioni che abbiamo dato noi hanno provveduto a un distacco dell'intonaco, cioè di una parte del coso murario, per vedere se effettivamente corrispondeva a realtà le cose che noi avevamo visto. In effetti hanno individuato questa zona dove ci sono due file di mattoni diversi, materiali diversi, con dei tasselli che facevano effettivamente supporre che l'affresco è stato tagliato e trasportato e rimesso in quel posto. Poi abbiamo individuato infatti una vecchia struttura muraria che esisteva prima dell'affresco, dove c'era un camino e quindi effettivamente non poteva essere stato dipinto sul camino.